Lory? Che c'è? Che c'è? Lory? Lory? E ti pare il modo? Scusa, eh? Che succede? Fatto? Ecco, vabbè. Cosa fai? Dal dentista ci vado già da sola. Ah, no, neanche quello si tocca. Lory, oggi è il tuo compleanno. È il tuo compleanno oggi? Compi un anno? Tanti auguri! E tanti auguri a te. Ma cosa vuole questa? Lasciami! Lory? Lory? Ciao, Lory. Ciao. 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 Eh, sì. Troppo impegnato, eh? Lory? Lory? Mi molli? Lory? Mato. Mato. Ecco, bravo. Ciao, ciao. Ciao. Idiota. Ciao.